Roma è tanto che non vince e se non ha vinto ci sarà stato pure un motivo, se con lui è tornata a essere competitiva penso che il grande merito sia soprattutto il suo. Non mi piace dire gioca bene gioca male come fa Antonio che poi diventa monotono, uno ha il suo pensiero però sicuramente con quello che ha a disposizione sta facendo tanto, quindi tra i due io sono con Mourinho. Grazie per la visione!